Al Macrelli di San Mauro punti importanti per la zona salvezza, San Maurizio e Ghivizzano sono entrambi reduci da un pareggio pronte a sfidarsi per superarsi nel turno odierno. Direzione di gara affidata a Battini di Foligno. Al quindicesimo la San Maurizio passa da punizione Scarponi in becca a Merlonghi, l'ex cattolica arriva alla conclusione, Nucci respinge, Mangurini in realizzata più vincente. Sarà questo il gol partita per gli uomini di Protti. I Ghivizzano replica azioni in area San Maurese con l'allontanamento parziale del pallone sul piede di Bagiani che in corsa dalla distanza deposita la sfera sul fondo. Al ventisettesimo l'occasionissima per la San Maurese per chiudere il match. Merlonghi velocità e costretto a defilarsi per evitare Nucci in uscita. L'attaccante fa tutto bene ma sul più bello vede negarsi la gioia del gol dal s'abattaggio sulla linea d'opera della retroguardia ospite. Ci prova anche Bonandi con un tiro che Nucci trattiene in due tempi. I Ghivizzano si vede con un altro tentativo da fuori area d'opera di Monacizzo Adorni controlla la sfera a accomodarsi sul fondo. Nella ripresa Giannini a tu per tu con Nucci si lascia ipnotizzare da quest'ultimo. Dall'altra parte ci prova Fazzi senza trovare fortuna. La partita riserva occasioni da una parte e dall'altra. Qui è Bonandi ad eccitare sbagliando il possibile gol del 2-0, quello della sicurezza, mentre dall'altra parte Riccioni alza la mira. Si chiude qui la gara con la San Maurizio che ottiene tre punti pesanti agguantando l'undicesimo posto in gradatoria.